Allora oggi faremo degli spaghetti con acciughe, un po' di tonno, aglio. Allora abbiamo fatto friggere l'aglio insieme al tonno e a quattro acciughine. Adesso a parte qui faremo della mollica fritta, pane grattato, aggiungiamo un po' d'olio e lo facciamo a brustolire un po'. Mettiamo ancora un goccio d'olio Facciamo a brustolire bene e poi lo metteremo insieme alla padella dove c'è già l'aglio. Ecco, adesso lo giriamo bene bene, fin quando prenderà un po' di colore. Qui facciamo, mettiamo la pasta, metteremo degli spaghetti o delle bavette o... vediamo. Poi quando la pasta è pronta metteremo tutto in padella e faremo andare per 2-3 minuti. Ecco, la mollica si sta rosolando. Scendiamo la luce, che si vede meglio. Ecco, vedete che così si... Ok, la mollica è a posto. Qui possiamo spegnere. Adesso mescoleremo tutto quanto qui nella padella, insieme all'aglio, l'acciuga, un po' di tonno e aggiungeremo soltanto un po' di pepe e un po' di prezzemolo alla fine. Allora, abbiamo aggiunto anche un po' di pepe e il prezzemolo. Ecco, è a posto. Il nostro preparato è ok. Appena le bavette sono pronte, aggiungeremo qui alla padella. Tra poco bolle. A dopo. Allora, ecco la nostra pasta finita. Adesso mettiamo un po' di parmigiano reggiano. Ecco, parmigiano reggiano. Il pepe è rimasto. Quindi, buon appetito a tutti dal gruppo Cucina Nazionale e Internazionale con video e ricette. Buon appetito a tutti.